bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video e oramai mi sono lanciato scusate cioè in mente di scendere a pantano quando già pantano ok fa niente non è successo niente ultima possibilità di zio ragazzi ho perso almeno di un millimetro non ci posso arrivano arriva gente sopra tienite i dati a terra noi noi io non mi farai rapire devi allontanarti il più possibile io sto correndo via ma è impossibile 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 va bene non è un problema facciamolo facciamolo ci siamo salvati adesso una presa trovo l'altra presa abbiamo luto epico abbiamo luto epico easy vai loca niente subito a prendere tutti i portieri adesso ragazzi eh ma devo prenderla la roba ho preso due track viola apri il del zaplano ci arriviamo a scogliere let's go let's go raga let's go non ho non ho una r perché l'ho lasciato c'è uno che vola ho caricato in volo è andato credo siano alieni ma non sto sicuro no voglio che vieni qua ad aiutarmi ok 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 let's go se ci avete se ci avete le viti faccio l'aug si ne ho una si potrebbe fare un aug ma sembrano loot scogliere sinceramente ragazzi ci sono tipo 17 shieldoni io ne ho tre ma te ne lancio giù un altro ma porca p***a vieni giù vai a c***a va ok io dico che psycho potrebbe venire qua a farsi i barili aspetto che siete pronti poi ci spostiamo spero anche quello scendone bello ho trovato una free jump easy quando ci siete andiamo e portiamoci alla casa ce ne andiamo abbiamo una challenge in corso guys vi prego non sprechiamola mi prego è vinta è vinta è vinta raga per forza doveva mettere questo piccone figa per forza o tutti quelli che giocano con me per forza devono usare il piccone di marshmallow io l'ho tolto perché bravo bravo ho sentito spari qua e attenzione c'è una vicella qui a destra sarebbe meglio tirarla giù questa ho l'ho detto sopra 31 30 doppio usciamo questi sono ma la sentite no è il peggio merdi c'erano i cosi rispottono a terra uno andiamo 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 a terra un altro 35 hanno uno morto tutti grazie mi copro niente ancora il ragazzo bisogno di cure white non ce ne sono via locato non hai merito niente no ci buscano quanta voglio provare a scappare si anche ho la jump è ma non ha senso siamo in safe aspettiamo un attimo stai con boxato loca sto sparando a me uno qui boxato morto bu cancecchinato chiudi tutto chiudi tutto uno che mi salva vai loca loca holda cioè vai 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 psycho vediamo un attimo a curare a cannone secondo me ce li lascio tutto tieni 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 chiudi holda 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 ti prego due secondi che carico ci sono via dobbiamo fare un uccidone io io li tengo un attimo occupati anche se non so per quanto manca un secondo sto arrivando cazzi di me un attimo la c 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 un contatto un contatto un contatto un contatto un contatto una navicella ti posso portare un medici maz arriva un secondo un contatto un contatto un contatto un contatto è sceso loka è massimo no, c'è il loro subito sto restando loka resta da sceme, li tengo tutti e due ha il shield si si, ci vuoi è sceso no morto cosa è successo? ho missato uno che stava per rebuttare si è spostato l'ultimo secondo che gli ho sparato non ci credo quindi rebuttano qui siamo 3 v2 ok, ricompattiamoci noka vieni che ho lo sport flash gran partita questa, c'è un tipo da solo al drop è una jump eh? si, vieni 35 al gatto stiamo arrivando, vi aspetto vi aspetto ok, qua dentro due uno con lo spada slurp ultimo sono qui sotto piano e piano entrare a terra uno quarto manca uno calmi calmi calmi, stop 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 3 v1 qui let's go bravo bravo easy macarena eva che partita non 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 Grazie a tutti.